Alessandro Sorrentino lascia il Peschiara e va a Monza, non che ci fossero dubbi sul buon esito della maxi-operazione tra i brianzioli e il club biancazzurro, che dunque, grazie all'estremo difensore classe 2002, realizza una plusvalenza innanzitutto e poi può dare il via ufficiale agli investimenti per la stagione che verrà. Sorrentino giocherà in Serie A dunque alle spalle di quello che sarà il titolare, Alessio Cragno, appena acquistato dal Monza, e presumibilmente di Di Gregorio, appena riscattato dall'Inter, visto la promozione nella massima serie. Davanti invece il Pescara ha praticamente chiuso con l'Escano, in arrivo dalla Virtus Centella, dove andrà Luca Clemenza. Non solo lui, in Terra Ligure, perché anche Davide Zappella stra per trasferirsi alla Corte dei Virtussini in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli, proprietario del cartellino. Zappella e Clemenza dunque potrebbero proseguire altrove un'altra stagione insieme. A Delfino però adesso serve, oltre che un centrocampista, il profilo numero uno è sempre quello di Simone della Latta del Padova, anche un altro attaccante, ovvero Luigi Cuppone della Cittadella, rientrato in Veneto dopo l'esperienza a potenza nella seconda parte della stagione. Sempre in attacco, contatti tra il Pescara e il Sassuolo per valutare il futuro di Marco Delemona, che è il classe 2005, un grande prospetto così come in difesa lo è Veroli, ma per il momento nessuna società ha chiuso l'operazione né con l'uno né con l'altro. È evidente che qualcosa accarrà nei prossimi giorni, visto che siamo ancora ai primi di luglio, e la Lega Pro, a differenza della Serie A che parte a ferragosto, ha altre due settimane prima dell'avvio del torneo. Il Delfino vorrebbe, con l'offerta giusta si intende, cederli ma tenerli comunque ancora una stagione né bianco-azzurro. Chi invece ancora non sa se sarà in aste di partenza dell'annata 2022-2023, e il Teramo, che ieri ha presentato ricorso contro la bocciatura Covizoc, che al momento lo relega fuori dal torneo di terza divisione. La DCF Sport Legal e i legali di Cintio e Ferrari hanno allegato il documento di accoglimento di rateizzazione dell'IVA non pagata nelle stagioni precedenti. Ma è una mossa che potrebbe valere a poco, perché le norme sono strettissime e possibilità di integrazione posto, ma proprio non c'è. Domani è in programma il Consiglio federale, che dovrà decidere sui bianco-rossi e sul campo basso. La realtà è che gli attori protagonisti sanno prima di chiunque altro quanto i margini siano risicati per non dire nulli, almeno dal punto di vista del procedimento sportivo. Per questo si lavora lacrimente anche al piano alternativo, col titolo del notaresco che potrebbe essere trasferito proprio a Teramo. Cosa che la tifoseria ha già fatto intendere di non volere, come si chiede discontinuità anche rispetto all'attuale assetto societario.